Bene a tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video dovete ben poeggiarti andando a provare a vedere come completare un'altra missione di queste sfide settimana 10 di Fornet Infatti le missioni che andremo a vedere in questo video è esattamente quella che ci chiede di fare danni da mischia, quindi infliggere danni da mischia Dovremmo infliggere un totale di 300 di danni da mischia e avremo completato la sfida, ma cosa sono questi danni da mischia? Infatti i danni da mischia sarebbero praticamente i danni col piccone, qui dovremmo avvicinarci a un nostro avversario, in questo caso stiamo laggando, quindi attenzione Qui dovremmo avvicinarci a un nostro avversario, anche qui di questa squadra vi consiglio di farla in questa modalità Quindi ci avviciniamo al nostro avversario e dobbiamo proprio infliggere dei danni col piccone, vediamo se riusciamo a farlo con questo Ok lo chiudete magari e infliggere i danni, ok proviamoci, ok 20, 20, ok abbiamo fatto 40 di danni, basta farne 300 e avete portato al terra Il termine è questa sfida, quindi vi consiglio come getto prima di andare qui in questa squadra, perché riuscite appunto a farla più velocemente Perché ci sono anche le rigenerazioni, ad esempio ecco qui, adesso riusciamo vai, poi già ne abbiamo fatti 80, quindi abbiamo fatto già 80 di danno Ok c'è anche un altro qui, andiamo se riusciamo a fare qualcosa, no questo qua lo prendiamo Vieni qua, vai vai, picconiamolo, ok Quindi semplicemente basta fare questi danni e vi porterete al termine questa sfida Quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se non si è mai stato d'aiuto vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrizione Non mettendo la campanella delle notifiche, così se siamo aggiornati su questi tipi di video, le live lo schieno vaso a taglia Infine condivido il suo video, ci vediamo che vi siamo a vedere anche a loro Appunto come completare questa sfida, ci vediamo di fare danni da mischia qui su Fortnite Noi ci vediamo a un prossimo video, alla prossima live Noi ci vediamo